Voigt Lander 20 mm f3.5 color scoper un obiettivo molto piccolo ma anche molto performante con baionetta f che possiamo utilizzare sulle nostre reflex sia a pellicola che digitali e possiamo utilizzarlo ovviamente anche sulle mirrorless non so dirvi se questo è il 20 mm più leggero sul mercato per il pieno formato ma sicuramente è uno dei più leggeri 212 grammi e comunque è discretamente luminoso perché è un f3.5 e non facciamoci spaventare da questo 3.5 è appena un terzo di stop più buio rispetto a 2.8 quindi cambia decisamente poco ok lo so ragazzi questo confronto è senza senso però a me piaceva farlo il 20 mm alla sinistra f3.5 di Voigt Lander per pieno formato e a destra il 110 mm f2 per Fuji GFX beh diciamo che c'è una piccola differenza di dimensioni giusto un attimino questo obiettivo è costruito davvero benissimo tutto metallo metallo solido non lamierini ed è costruito davvero come dio comanda troviamo chiaramente una baionetta totalmente in metallo con tanto di contatti per la trasmissione dei dati che vediamo in questa zona qui i contatti servono di sicuro non per l'autofocus perché non ce l'ha ma per tutta la gestione del diaframma e degli exif quindi è possibile gestire tutto dalla macchina fondamentalmente se fosse un nikon questo qui sarebbe un AIP quindi un AI con il controllo però elettronico di tutto l'obiettivo degli exif eccetera per cui sicuramente una comodità l'autofocus non c'è è un po' un peccato però diciamo che su un 20 mm non è che ci manchi tantissimo l'autofocus è una funzione che è comoda in certi ambienti però non è fondamentale in diaframma si può regolare impostando la f22 direttamente dalla macchina sulle macchine che ovviamente lo consentono e invece su tutte le altre quindi sulle macchine più vecchie con la pellicola è possibile cambiare diaframma banalmente dalla ghiera si può utilizzare anche su macchine molto vecchie come la nikon f però lì se abbiamo un esposimetro fotomic che usa la forcellina non possiamo chiaramente utilizzare l'esposimetro perché questo obiettivo non ha la forcella però su tutte le macchine che hanno l'accoppiamento AI quindi diciamo dalla f2 in poi possiamo tranquillamente utilizzarlo e sfruttare l'esposimetro io ce lo vedo benissimo sopra una fm2n come la mia questo obiettivo qui direi che è un'ottima accoppiata ma vi dirò anche in digitale è un'ottima accoppiata l'ho provato sulla d850 e funziona molto bene l'unica cosa un po' strana che ho trovato è che per fare il fuoco infinito bisogna effettivamente portare la ghiera al massimo della sua della sua corsa e mettendola al massimo della sua corsa la macchina indica che non è proprio precisamente a fuoco per lo meno con il telemetro della macchina quello elettronico il pallino diciamo quando invece lo mettiamo su una z il suo infinito non è proprio a fine corsa e quindi riusciamo a gestire meglio il fuoco e avere ancora più nitidezza non dico che sulle d quindi sulle macchine con la bayonetta f non sia giusto l'infinito ma dico che sia proprio al pelo manca proprio quel pochino per essere realmente infinito le foto sono comunque ottime vengono benissimo però ci fosse quel pezzettino di elicoide in più sarebbe meglio non so perché sia stato fatto così di solito tutti gli obiettivi vanno un po' oltre l'infinito anche solo banalmente per mettere a fuoco le stelle non ho mai provato a mettere a fuoco le stelle con questo obiettivo ma credo che non sia particolarmente facile farlo perché il suo fine corsa è un infinito che secondo me è intorno la trentina di metri che poi ok va bene perché essendo 20 mm con la pdc anche a f3.5 è tutto a fuoco ma secondo me le stelle è difficile che vengano a fuoco sulle z complice la tiraggio leggermente più basso perché l'ftz ho scoperto che non è proprio 30,5 mm ma è leggermente meno questo problema non si pone neanche perché possiamo andare effettivamente all'infinito reale e quindi si può fotografare un po' tutto mi è piaciuto questo obiettivo beh decisamente sì non mi aspettavo che mi piacesse così tanto e trovo che sia davvero azzeccato come obiettivo perché è molto piccolo molto compatto ma comunque la qualità c'è c'è tutta è comodo da utilizzare perché comunque anche se il manual focus è un 20 mm e il fuoco si riesce a fare molto facilmente molto rapidamente e anzi il più delle volte lo si mette infinito e fine della storia quindi pratico da utilizzare mi sono portato questo obiettivo così quasi per gioco alla commemorazione del 25 aprile a varallo e mi sono detto vabbè scatto tutto con il 28 105 sulla D850 e sono a posto perché quell'obiettivo lì è diciamo il più versatile che ho ed è davvero ottimo perché insomma le foto erano da fare all'aperto non c'era assolutamente bisogno di luminosità maggiori poi a un certo punto mi sono detto quasi quasi prendo anche la z e ci metto sopra il 20 ed è stata una buona idea perché ho fatto alcune fotografie non tantissime in realtà però quelle che servivano per l'articolo e le ho fatte con questo 20 qui che è comodissimo lo metti praticamente infinito scatti con un diaframma che di giorno può essere 5 6 8 robe del genere e le foto sono perfettamente a fuoco e sono belle e hai un obiettivo leggerissimo su una macchina leggerissima come la z7 seconda quindi devo dire che mi sono trovato molto bene non pensavo l'ho poi utilizzato anche sull'850 mi sono trovato bene anche sull'850 per cui devo dire che è un bello obiettivo non pensavo davvero di di apprezzarlo così tanto e credo che forse è un po la dimensione il peso questa cosa che che te lo fanno che te lo fanno amare molto facilmente per quello che riguarda le prestazioni ottiche a tutta apertura diciamo che non è eccelso ma non va assolutamente male anzi un ottimo obiettivo chiudendo il diaframma e sui diaframmi tipici di lavoro di un 20 mm lavora molto molto bene per cui sicuramente un buon acquisto questo obiettivo non è più in vendita o meglio questa versione non è più in vendita perché questo è il 23.5 SL adesso c'è in vendita l'SL seconda versione non so bene cosa cambia ho visto che c'è qualche piccola differenza non so dirvi se dal punto di vista ottico è migliore o peggiore ma comunque già questo va molto bene immagino che il 2 vada ancora meglio oppure uguale se lo trovate a buon mercato secondo me questo qui è un buon obiettivo da acquistare sia perché fa assolutamente pandan sulle nostre macchine a pellicola come una fm2 nera questo obiettivo qui sopra è spettacolare da vedere però è anche un ottimo obiettivo dal punto di vista delle prestazioni ottiche se vi interessa un test di prestazioni vere e proprie di questo obiettivo ve lo faccio e ditemelo qui sotto nei commenti se ricevo un po di richieste faccio un video e vi faccio vedere magari la vignettatura la qualità ottica i vari diaframmi quelle cose lì altrimenti non lo faccio perché secondo me è un buon obiettivo e vale la pena di dargli una possibilità perché comunque i volglander in genere non hanno particolare appeal nel mercato non c'è tantissima gente neanche che li conosce perché volglander fa davvero pochissima pubblicità e quindi insomma purtroppo questi obiettivi qui passano un po' al secondo piano quando in realtà sono fatti molto bene peraltro questo obiettivo qui è costruito in giappone e devo dire che è costruito molto bene ma forse ve l'ho già detto ok la presentazione si conclude qui mi auguro che questo video vi sia piaciuto vi sia servito a qualcosa se avete dubbi domande scrivete qui sotto se volete supportare il canale mettete mi piace scrivetevi al canale è assolutamente gratuito oppure se volete dare un contributo diciamo economico potete seguirmi anche su patreon li vedete i video in anteprima rispetto a tutti gli altri e con un euro al mese potete insomma supportare il canale attivamente fatelo ovviamente non per vedere i video in anteprima ma se volete effettivamente supportare il canale che come sempre è in perdita grazie a tutti per la visione e arrivederci alla prossima grazie a tutti